Succede solo a Taranto, ci sono raffiche di vento, gli alberi crollano e si chiudono le scuole. È un fatto davvero vergognoso, significa che l'amministrazione comunale di Taranto non ha mai attuato una regolare manutenzione del verde. Un fatto davvero incredibile. Quante volte ho sottolineato il problema e non volevo essere Cassandra profetessa di sventure, però il pericolo era stato evidenziato. Ma l'amministrazione comunale ha fatto finta di non sentire, se ne è fregata altamente, diciamocelo. Perché in numerosissime occasioni, insieme al noto agronomo, il dottor Francesco Pasculli, abbiamo appunto sollevato l'attenzione su queste situazioni. Il dottor Pasculli ha messo a disposizione gratuitamente la propria competenza, la propria professionalità in materia di gestione, di manutenzione del verde urbano. Nessun interesse dichiarato da parte dell'amministrazione. Mi viene da ridere, anzi da piangere, quando sento e sentiamo il sindaco il quale parla di Taranto, città europea. Ma nelle città europee evolute, penso alla Germania, penso ai paesi del Nord Europa, penso all'Inghilterra, al Regno Unito, laddove le raffiche di vento sono una consuetudine quotidiana. Se lì vedessero una situazione del genere, gli alberi scoprissero che a Taranto, quando ci sono raffiche di vento, gli alberi crollano, ci riderebbero in faccia, ci prenderebbero a pomodori in faccia. Ma, sindaco, signori dell'amministrazione, aspettiamo che ci scappi il morto? Ora, in fretta e in furia, così in maniera rapida, bisognerà intervenire per cercare di mettere in sicurezza i vari alberi, così, in maniera rapida, in maniera estemporanea, quando invece il problema poteva essere affrontato in maniera programmata. Ecco, la parola programmazione manca all'amministrazione comunale di Taranto, si interviene quando la frittata è bella e fatta. Ma sembra quasi di essere all'epoca, nella triste e drammatica per il territorio tarantino, era Stefano. Poco o nulla è cambiato, si improvvisa, si procede così alla meno peggio. Mi rivolgo all'assessore Vigiano, assessore al Verde, e spesso strombazza il proprio impegno e quello dell'amministrazione in ambito di verde pubblico, di ambiente. E, signori cari, questi sono i risultati. Risultati fallimentari. Che dire? Si salvi chi può, perché dobbiamo veramente uscire di casa la mattina e pregare il buon Dio che non ci cada un albero in testa, anzi, i tarantini possono dichiararsi prigionieri della nostra città, perché tra raffiche di vento e scuole chiuse e wind days i cittadini sono barricati in casa, sono stati condannati, come dire, agli arresti domiciliari. Beh, però, non vi preoccupate, cittadini, il sindaco ha detto che Taranto è una città europea. Posso dirlo alla Tarantina maniera? Sindaco, ma a dove è, sindaco? C'è ste dici. Beh, scusate lo sfogo in dialetto, ma quando ci vuole, ci vuole. E che dire? Speriamo che nessun albero ci piombi in testa. Infatti, con ordinanza numero 6, il sindaco ha disposto la chiusura per giorno 14 febbraio di tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio, appunto, del comune di Taranto. Beh, insomma, è un fatto davvero grave, molto ma molto significativo. Immaginate un po' cosa poteva succedere se quegli alberi, malauguratamente, anziché cadere sulle auto o, appunto, sui marciapiedi, si fossero abbattuti, fossero piombati addosso sulla testa di un qualsiasi passante, di un bambino. Riflettete, cittadini, riflettete. Grazie.